buongiorno bambini eccoci qua in diretta dalla babyfattoria con una macchia di colore in movimento qua dentro ci sono tutti i porcedini d'india ci sono i nostri e ci sono quelli che recuperiamo perché sono stati feriti e quindi ci vengono portati dalle persone e questo è il momento della colazione stanno mangiando delle foglie succulente di olmo tra un po mettiamo l'acqua e i cereali poi quando li sento fischiare vuol dire che hanno finito la pappa e quindi devo fare un nuovo giro di cibarie lo sapete che loro usano i baffetti che hanno sul naso le vibrisse per riconoscere i buoni da quelli cattivi quindi quando il porcedino d'india va a fare la spesa in giro per la fattoria tocca quello che incontra con i baffi se suoi baffi danno l'ok mette nel carrello e porta a casa altrimenti lascia stare perché vuol dire che quel cibo non è adatto alla sua alimentazione ecco quello lì a sinistra con le crosticine uno di quelli che abbiamo recuperato ha avuto un brutto incontro con un gatto e la proprietaria ce l'ho apportato ciao tu che vuoi ciao ciao macchia lui invece è gerry poi c'è spugnetta guardate quanti ne sono la mattina quando mi vedono iniziano a fiscali tutti quanti e parte un vero e proprio concerto loro sono molto curiosi vengono sempre ad annusare il mio telefono va bene va voi continuate a fare colazione io vado a distribuire il cibo agli altri animali della fattoria ciao ciao bimbi